ragazzi riprendo da qui perché non mi era accorta che era finito il tempo qui vi voglio far vedere l'ingrandimento della parte superiore con il volto coperto del ragazzo e il volto ombreggiato della fanciulla mi piacerà molto alle ragazze questo quadro, lo so, romantico ecco, poi vi voglio far vedere invece, questa foto è bellissima mentre l'altra era un po' più di scazza qualità questa foto ci mostra l'attenzione ai dettagli che vi dicevo che hai adesso guardate bellissimo questo vestito meraviglioso con questa luce che si riflette, le pieghe, le ombre poi guardate bellissimo il marmo dei gradini, la pietra del muro anche qui vedete il marmo qua e là rovinato poi le chiazze di colore diverso del marmo è stupendo anche il pavimento, sembrano le mattonelline di cotto messe a spina pesce come usavano al tempo poi che ogni tanto si ritrovano anche ora che danno proprio l'idea dell'opaco, anche un po' del polveroso e poi vi faccio vedere, ecco vabbè questo è l'ingrandimento della parte della persona che sembra salire o scendere come dicevamo ecco, le ultime due cose che vi volevo far vedere qua c'è la seconda versione del 1861 che è leggermente spostata tanto che qua si vede benissimo invece questa persona che sembra una donna tra l'altro in questo caso che sta scendendo le scale perché qua la riconosciamo di schiena ma non è detto che sia nella stessa posizione della prima versione e soprattutto, vedete, cambia il vestito della ragazza che è completamente bianco perché? Perché nel 61 finalmente abbiamo detto l'Italia è diventata unita e quindi non c'è più bisogno di celebrare i francesi e abbiamo il bianco che insieme al rosso e al verde qui si vede meglio, si vede il pezzo della manica e di nuovo la parte interna, il vestito del ragazzo sono i simboli del tricolore italiano mentre addirittura in un'altra versione del 67 ritornano i colori francesi perché questa versione venne fatta per essere inviata a Parigi per l'esposizione universale di quell'anno e quindi ovviamente Aiez vuole fare un omaggio alla Francia questa tra l'altro, a parte la foto che è più brutta poi è proprio più... a me piace meno anche perché forse è più alta vedete, siete anche una finestra insomma, siamo più distratti rispetto alla giovane coppia bene, noi abbiamo finito Aiez e mi raccomando di ricordarvi soprattutto questo discorso che in generale in Italia i pittori che ci sono anche se noi abbiamo visto lui che è il rappresentante più importante ma in generale il romanticismo italiano è molto legato alla storia e alla politica quindi fondamentalmente, come vi ho scritto qui si tratta di una pittura storica a sfondo patriottico grazie a tutti